Sì, ci voleva questa vittoria, la volevamo a tutti i costi, la settimana scorsa abbiamo perso tre punti importantissimi, nonostante questo comunque ancora il campionato è all'inizio, oggi ci siamo presi questi tre punti importanti e vediamo un attimo come andranno le altre squadre. Direi che per il momento noi, il Salerno, siamo in vetta, per il momento noi, poi non si sa mai, è lunga ancora. Abbiamo sbagliato molti tiri davanti ai 6 metri, abbiamo sbagliato passaggi, c'è stato poco gioco di squadra alla fine dei conti, bisogna lavorare di più e cercare di non fare certi errori perché sono errori proprio banali, che a questo livello non si dovrebbero proprio fare. Cercheremo di dare sempre di più comunque. Sette giornate dove potevamo sicuramente dare di più in altre occasioni, comunque cercheremo di dare sempre il massimo, di non arrenderci subito, cioè lotteremo sempre fino all'ultimo comunque.